Buonasera a tutti. Anche questa seconda serata di preghiera insieme del mese di maggio vorremmo proporvi un fioretto che riguarda i due simboli della giornata mondiale dei giovani, la croce e l'icona mariana. La croce ai tempi di Gesù era considerata sicuramente un segno da cui stare lontani perché appunto era lo strumento di tortura utilizzato dai romani, mentre per noi cristiani dopo la risurrezione di Gesù è diventato il simbolo della redenzione e della salvezza. Un grandissimo segno dell'infinita sapienza di Dio che sa trasformare il dolore, la sofferenza e tutti gli eventi negativi della storia in redenzione e salvezza. E così come la croce è la nostra sapienza, l'icona mariana e il volto di Maria è il modo più dolce di credere a questa sapienza. Quindi il fioretto che questa sera vi proponiamo è quello di indossare sempre il sorriso di Maria e poi è quello di portare con sé sempre un simbolo religioso che ci ricordi appunto di questa sapienza e di questa dolcezza. La nostra carta d'identità. Come dice sempre il nostro padre spirituale, tanta gente non leggerà mai una pagina di Vangelo, ma incontrando un cristiano nella nostra vita, vivendo realmente la nostra fede, la nostra vita potrebbe essere l'unica pagina di Vangelo che tanta gente leggerà mai. Questo è il nostro fioretto per questa sera. Buona serata a tutti. Buona serata e arrivederci.